Oggi quasi tutta l'Italia è tornata in zona gialla e così anche le Marche. A Pesaro siamo andati a vedere come hanno ripreso il lavoro baristi e ristoratori. La voglia di ripartire, di tornare alla normalità da parte di ristoratori e baristi era tanta ed oggi nel primo giorno di rientro in zona gialla per le Marche gli operatori del settore non si sono fatti trovare impreparati. Insomma un lunedì di ripartenza tra sorrisi e anche qualche preoccupazione per i mancati incassi dei mesi precedenti ma nel complesso questo primo giorno di lavoro è andato bene. Serrante su per i bar che dalle prime ore del mattino hanno potuto servire brioche e cappuccino al tavolo, idem per i ristoranti che oltre ad essere ripartiti oggi hanno già avuto prenotazioni per la settimana. Puntiamo sulle nostre risorse e niente ci auguriamo che sia una ripartenza buona per tutti non solo per la mia attività ma per tutte le attività sia del centro storico che di tutta la città perché più lavoriamo e più siamo tutti felici. Dalle 7 alle 8 e mezza si è visto qualcuno poi c'è stato un po' di calma visto che comunque sia le attività lavorano con persone che vanno a lavorare quindi diciamo che nella prima parte della mattinata sì poi no. Adesso ci aspettiamo qualcosina a pranzo e poi vediamo un po' per quanto riguarda il fine settimana come si evolverà il tutto. È stato bellissimo perché sono degli amici, abito vicino al piazza Olivieri, vengo spesso qua, contentissimo, mi leggo il giornalo, passo un paio d'ore. Con rientro in zona gialla ci si potrà spostare anche al di fuori del proprio comune quindi all'interno della propria regione rispettando pur sempre il coprifuoco confermato per le 22. Al ristorante resta valida la regola dei mesi precedenti ai tavoli ci si potrà sedere al massimo in quattro salvo nuclei familiari più numerosi. Poi alle 18 tutti a casa. Riapriamo per aperitivi, per pranzi dal primo pomeriggio lavorando su una componente nuova che abbiamo dovuto sviluppare per quanto riguarda l'asporto e che la portiamo anche adesso a tavola dei nostri clienti. Lo facciamo, riapriamo però per noi una difficoltà grossa in quanto aprendo normalmente alle 18 i nostri clienti non si possono neanche avvicinare insomma a quell'ora lì noi chiudiamo quindi. La voglia non ci manca, l'inventiva pure, siamo sempre dietro a inventare qualcosa di nuovo per poter rimanere sul settore se no qui è una morte lenta. Siamo ovviamente insomma contenti di tornare a fare il lavoro che ci appassiona e che amiamo che è quello appunto di accogliere le persone e farlo nel migliore dei modi. Appena è arrivata la notizia della zona gialla in molti e soprattutto i nostri clienti più affezionati si sono informati ecco su quelle che erano gli orari quindi già oggi abbiamo qualche tavolino insomma.